Ciao a tutti e al vostro PayGamer ragazzi, oggi andiamo a parlare delle due partite che ha giocato la Roma e l'Inter e poi andiamo a parlare del pre-partita per quanto riguarda il nostro magnifico Milan parliamo delle due partite prima di Roma e Inter prima di parlare sul dettaglio vi ricordo sempre iscrivervi al canale, lasciate un like a te la campagna di seggiungeremo i contenuti parliamo della Roma una Roma veramente beffata a quanto riguarda la Fiorentina una Roma che doveva rimediare, doveva dare su in questa partita per dimostrare che c'era nel momento e che era preparato tutto per una finale di Europa League e di disputare prossima settimana se non sbaglio la disputa questo mercoledì contro il Sevilla quindi una finale veramente difficile mentre dall'altra parte abbiamo la Fiorentina che batte questa Roma porta a casa questa vittoria, si rifà della sconfitta in finale di Coppa Italia dove l'Inter si porta un altro trofeo a casa e porta a casa questa vittoria che è una vittoria importante e che in vista della finale di Conference League è veramente un buon inizio e può far bene soprattutto lo strumentale dei giocatori vittoria che trova nel finale la Fiorentina la Fiorentina è un italiano che sta fondamentale in una stagione magnifica una stagione dove deve chiudere in bellezza con questa vittoria della Conference League che deve assolutamente mettere tutto il suo impegno e portare a casa questa partita una finale veramente importante che per la società della Fiorentina è una cosa di impressionante è veramente una grandissima impresa è una stagione veramente spettacolare per quanto riguarda Roma è veramente una brutta beffa una beffa negli ultimi due minuti che deve assolutamente risolvere deve risolvere tutti quegli errori che ha commesso in difesa una Roma che deve assolutamente cambiare qualcosa in difesa a sistemare la difesa perché nella finale di Europa League avere quella difesa è veramente una beffa quindi tifosi giallorossi dovete assolutamente supportare la vostra squadra fino in fondo perché è una grandissima partita da disputare quindi non pensate soprattutto a questa beffa che ha ricevuto la Fiorentina ma prendete soprattutto atto per non creare problemi soprattutto in quella partita e non creare errori soprattutto in quella partita quindi una Roma che perde questa partita che esce totalmente totalmente dalla qualificazione di Champions League e può provare soprattutto a vincere questo trofeo e a disputare la prossima competizione di Europa League poi parliamo dell'Inter un Inter che è veramente in forma un Inter che porta a casa un'altra vittoria e dimostra di essere soprattutto in un momento di forma che tutto le gira bene una squadra che veramente merita di stare in finale di Champions League ma deve assolutamente portarla a casa anche se io tiferò contro di voi cugini e che voi siete i nostri rivali quindi da tifosi rossonero devo tifarvi contro ma in caso che ho trato se riuscite a portare la Coppa a casa io vi farò i miei complimenti vi farò i miei complimenti e sarò contento tutto da una parte perché è sempre una squadra italiana ma spero che tutto questo non accada poi parliamo dello stato mentale dei giocatori soprattutto di lato la Martinez e Lukaku Lukaku l'avete ritrovato Lukaku ritroverà ha ritrovato tutto quel momento in cui aveva veramente un grande stato di forma pazzesco e stiamo parlando dell'anno con Conte Lukaku e lato la Martinez hanno fatto veramente una grandissima stagione ora ritroviamo gli stessi Lukaku e lato la Martinez che stanno veramente regalando spettacoli e emozioni soprattutto ai tifosi nerazzurri e soprattutto alla società che ha trovato questa coppia ha ritrovato questa coppia quindi sarà veramente difficile decidere a fine stagione per quanto riguarda Lukaku perché ritrova dopo l'infortuna ritrova questo stato di forma e spero che questo trofeo che ha vinto Lukaku gli dà tanto coraggio tanta forza per disputare quella Champions League dove il Manchester City lo sta aspettando e Guardiola come avete visto attraverso i social ha staccato completamente non pensando a tutta la finale e preparandosi soprattutto mentalmente per quanto riguarda la formazione a schierare soprattutto i giocatori da utilizzare in questa finale di Champions League poi parliamo del nostro Milan pre partita ragazzi pre partita manca solo un punto per qualificarci un punto e qualificarci dobbiamo giocare contro la Juventus usate il linguaggio dobbiamo giocare contro la Juventus e quindi dobbiamo portare assolutamente un punto in queste due partite per qualificarci e per confermare la qualificazione di Champions League quindi stasera sarà molto importante spero che il Milan metta in campo la prestazione che ha messo in campo contro la Sampdoria spero che metta l'anima e il cuore tutti in campo e che spero anche il calciomercato estivo arriva qualche innesto parliamo di Lopes Chick parliamo dei stessi nomi e spero che qualcuno arrivi arrivi l'ufficialità prima di fine giugno di qualcuno di questi nomi elencati anche nei video precedenti quindi sempre forza mia ragazzi portiamoci a casa questa vittoria mi raccomando nessuna distrazione nessun errore che è veramente importante questa qualificazione in Champions League perché tramite qualificazione in Champions League dipende anche il calciomercato estivo perché sapete che i giocatori vengono nelle squadre solo quando la squadra partecipa in Champions League e sarà difficile se la squadra non partecipa in Champions League comprare dei giocatori affermati giocatori di valore quindi ragazzi sempre forza mia supportiamo questo questo diavolo che ha bisogno di supportarlo e di supportarlo e soprattutto ragazzi vi ricordo sempre che il prossimo anno dobbiamo assolutamente vendicarci di tutte queste sconfitte e queste brutte delusioni che abbiamo ricevuto mi raccomando testa la partita concentrazione giocatori come Leao Ternandez devono chiudere questa stagione con questa qualificazione a meno salvare 10 20% è la qualificazione Champions League che ci dà un vantaggio in più soprattutto al calcio mercato la formazione secondo me sarà sempre la stessa della formazione schierata contro la Samp quindi forza a Milano ragazzi formazione che sarà schierata con un 4 2 1 3 con Leao Giroud e se non sbaglio l'altro sarà Messias poi a centrocampo avremo sempre i soliti e con un Brian Diaz che può fare anche di ala o dietro la prima punta quindi mi dispiace Brian Diaz che quanto pare la situazione è veramente delicata e penso che andrà via spero in quel 10% che rimanga ma sarà molto difficile ci vediamo al prossimo video ragazzi ho fatto un video di sintesi dove abbiamo visto tutto l'Inter la Roma la Fiorentina che in questo momento stanno vivendo un momento veramente di tanta emozione perché sono le finaliste di ogni competizione europea e quindi dobbiamo tifare soprattutto queste squadre italiane anche se l'Inter sarà difficile di fare perché da tifoso rosso-nero sempre forza Milan e i cugini sono sempre i nostri rivali ci vediamo alla prossima bella ragazzi per la prossima